Tensione, contatti anche fisici e malori fra docenti e studenti del liceo artistico Petrocchi di Pistoia, dove a fine pomeriggio di ieri un gruppo di una quarantina di giovani si è mosso per occupare la scuola mentre veniva chiusa. La sortita è stata mentre alcuni insegnanti stavano lasciando l'edificio. In quel momento gli studenti, tra cui diversi minori, avrebbero forzato l'ingresso entrando nei locali. In quel frangente ci sarebbe stato un alterco tra gli insegnanti presenti che hanno fatto barriera per impedire l'occupazione e gli studenti. Tre docenti, tra cui la preside e almeno due studenti, hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso in codice verde perché avrebbero accusato dei malori. In realtà, secondo quanto si apprende, ci sarebbero stati anche contatti fisici di un certo rilievo. Qualcuno sarebbe stato colpito. La Digos sta ricostruendo la vicenda che ha avuto più fasi. In serata, parte degli occupanti ha lasciato la scuola, ma una decina di ragazzi sono rimasti asserragliati all'interno dell'edificio. Gli ultimi sono usciti dopo mezzanotte di loro iniziativa, ma dopo ore di trattative. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili urbani di Pistoia. Le motivazioni della protesta, secondo quanto appreso, sarebbero le stesse per le quali la scuola era stata occupata anche a febbraio. Episodi di omofobia, discriminazione razziale e apologia di fascismo, di cui si sarebbero resi protagonisti circa un anno fa due insegnanti del liceo.